Ma Rue, ma sto preoccupato per Guagliarufa, guarda che ora si è fatta I ragazzi mi hanno dato 10 anni per cattare pochi frutti per me, per la caserma Ma sono passate 5 ore, chi sono bene? Ci hanno chiamato la casa da solo, il padre, la moglie Questo non si trova, forse è successo qualcosa Ma non lo so, quello qui sta prendendo Guagliarufa Buongiorno ragazzi Ma che buongiorno Guagliarufa, voglio bere, che buongiorno Che ci fa? E io cerco meci e cattare pochi frutti, lo servizio di 5 minuti Sono passate 5 ore, che hai fatto tutto questo tempo? Da qua la frutta E beh, 5 ore, che hai fatto Guagliarufa? Ma non è colpa mia marescià, io a un certo momento ho scattato la frutta Eh? Sono chiuso un colpa a scala mobile, l'ha sapete la scala mobile? E' cominciato a scala mobile? Ammita a scala mobile, che borsa male è mancata la corrente E io sono rimasto fermo un colpa a scala Ma quanto è strunzo, quanto è strunzo E' mancata la corrente un colpa a scala mobile? Si signore E stavo pigliando l'ascensore